Domanda, ci saranno meno stupidaggini nel mondo nel 2018 o al contrario? Il 2018 i due opposti sono necessari, da una parte ci saranno molte stupidaggini, come vediamo i dirigenti del mondo, i diversi governi e partiti. L'umanità, non ci saranno questi tipi di... scusate, il traduttore non riesce a tradurre tutto. Ci saranno molte persone che riconosceranno che... che è una stupidaggini, che è qualcosa di sporco. E il riconoscimento di questo gli cambierà la domanda. Rav, non abbiamo bisogno di questi governanti, che non c'è niente da aspettarsi da loro, né l'elite borghesi, ma è il desiderio delle masse di cambiare lo Stato, di essere connessi correttamente, in maniera corretta tra di loro. Ed è questo quello che produrrà il cambiamento. Nessuno potrà affrontare, né i borghesi, né i governi, niente.